Buongiorno, vi parlo dalla scrivania del mio ufficio nella sede nazionale del rinnovamento nello spirito. È in corso la nostra campagna 40 ore di preghiera contro il Covid-19. Ha concluso il suo turno la Regione Lazio e adesso è la volta della Liguria. Partecipate numerosissimi come ieri alla giornata del ringraziamento 14 marzo e grazie per il vostro impegno. Oggi è Domenica e la Domenica Cristiana racconta che c'è un amore che non conosce i limiti di spazio e di tempo, un amore che non si svaluta e che non si svende, niente a che vedere con tutti gli altri prototipi di Domenica che si vanno imponendo. Un giorno Gesù lanciò una sfida dicendo chi ha un amore più grande del mio? San Paolo risponderà nessuno spiegando che niente ci può separare da questo amore, né i pericoli della vita e nemmeno la stessa morte. Ditemi, siamo davvero segnati dalla Domenica più che segnati dal coronavirus? E se non abbiamo accesso alla mensa eucaristica stiamo apparecchiando la mensa dell'amore familiare nelle nostre case in attesa di distribuire questo amore poi fuori dalle nostre case a chi lo sta invocando? C'è un mondo che attende che sia Domenica. Il digiune eucaristico si tramuti allora in purificazione del desiderio di Dio e in promessa di un nuovo amore. Altrimenti non sarà domenica, altrimenti vivremo l'amore da sconfitti e non da vincitori, altrimenti non sarà 100% amore.